Io e a Rina siamo riusciti proprio a fare il nostro lancio più grande che ci ha permesso di fare abbastanza entrate economiche da poi scalare la nostra attività che è quello che oggi con clienti che entrano in modo costante. Mi chiamo Domenico Drovetti, lavoro come naturopata professionale e fondamentalmente aiuto proprio come missione le persone a depurarsi profondamente a rimettersi in forma e a prevenire le gravi malattie che potrebbero esserci nel futuro. Ho creato proprio insieme alla mia compagna, moglie e collega il metodo Alcadetos proprio col quale aiutiamo onnivele salutisti, vegetariani e vegani a depurare gli organi interni e imparare la giusta alimentazione proprio per stare davvero bene, per sentirsi in perfetta forma. Oggi riesco a gestire con grande efficacia e soddisfazione la mia attività completamente online e questo mi permette di avere tanti vantaggi innanzitutto perché riesco ad aiutare moltissime persone in tutto il mondo proprio a stare meglio direttamente da casa propria e allo stesso tempo questo mi dà veramente una grandissima libertà forse la cosa più importante perché ho deciso di fare questa scelta di lavorare online diciamo la libertà di gestirmi il mio tempo, di poter viaggiare ho visitato veramente molti più paesi negli ultimi due anni che in tutto il resto della mia vita e anche comunque proprio a dedicarmi a quello che mi piace quindi allo studio della nutrizione, della salute e della naturopatia e questo permettendo io appunto di gestirmi il mio tempo direttamente da casa mia. Ho deciso di fare proprio questo lavoro perché è una passione fondamentalmente è una grandissima passione che poi è diventata una missione fin da quando ero bambino avrei dovuto fare il medico fondamentalmente poi ho un po' cambiato strada all'università ma poi ho proprio ritrovato questa grandissima passione per il benessere, per tutto quello che riguarda proprio il benessere della persona e insieme a Rina abbiamo proprio, diciamo spesso che abbiamo questa missione proprio di far risplendere di salute e bellezza le persone in modo da riuscire anche a rendere questo pianeta un posto migliore diciamo. Prima di conoscere Giacomo e il suo marketing programmatico già lavoravo online, avevo già diciamo creato proprio un sito avevo già fatto i miei primi lanci però effettivamente avevo veramente delle grosse problematiche a rendere un'attività una vera attività nel senso che comunque dipendevo dai lanci che dovevo fare erano estremamente stressanti e sicuramente questo da un punto di vista di stabilità economica mi metteva in agitazione perché magari c'era un periodo in cui facevo molti ingressi e molti soldi poi dopo boom, c'erano assolutamente delle linee che secondo me non rappresentavano quello che dovrebbe essere un'attività economica stabile che in teoria dovrebbe crescere costantemente. Avevo conosciuto Giacomo tramite il suo vecchio blog già di tanti anni fa e devo dire che come già gli dicevo ho sempre risuonato con lui perché comunque avevo un approccio molto metodico, programmatico Giacomo mi piaceva tantissimo perché era molto preciso e poi praticamente ho fatto il classico viaggio del cliente con lui fino ad arrivare proprio a essere seguito direttamente nel suo coaching privato e sicuramente quello che mi ha dato Giacomo è stato veramente reiniziare tutto da capo in un modo ancora più professionale quindi fare uno studio del mercato ancora più approfondito e darmi degli strumenti ancora più professionali tanto che poi io e Rina siamo riusciti proprio a fare poi durante l'anno in cui eravamo proprio dentro al coaching il nostro lancio più grande che ci ha permesso di fare abbastanza entrate economiche da poi scalare la nostra attività che è quello che è oggi quindi un'attività costante un programma di membership e di assistenza costante con i clienti che entrano in modo costante quindi con una grande stabilità e una magia e tranquillità per me e per la mia famiglia Davvero lavorare in questo modo mi ha permesso di raggiungere i miei più grandi sogni che erano veramente come dicevo già quelli di lavorare online che già ci stavo riuscendo, ci stavo provando però proprio veramente avere un'attività stabile, concreta e avere veramente la propria attività e le proprie entrate sotto controllo nonostante comunque lavorando come libero professionista che per antonomasia comunque è un'attività insicura e sicuramente come prossimo obiettivo c'è proprio quello di stabilizzare ancora di più la nostra attività e quello di riuscire a scalarla maggiormente quindi creando un team di supporto e quindi liberando maggiormente ancora il nostro tempo quindi mi sento di ringraziare moltissimo Giacomo Giacomo tutto il suo team di marketing programmatico perché finalmente è proprio a volte davvero non mi alzo la mattina mi rendo conto che lavorando comunque da un'isola tropicale vedo il sole, vedo il mare, vedo le palme e riesco a lavorare a davvero una vita piena a stare più con mia moglie e allo stesso tempo veramente portare avanti quello che era la mia missione di vita quindi aiutare le altre persone a stare meglio, a depurarsi e veramente a rendere il mondo magari un po' un posto migliore